io collocai mi si mostrò arciriccone un milionario un epulone io collocai da qualche parte delle mie giornate con lui la frase ti amo poi mi accorsi che a lui restavano scarsi centesimi di uno zio trapassato la speranza di una mia vita vincente è stata bruciata ed è rimasta la sua oscurità e la cenere del mio corpo che invecchia perché commento perché è raggiunto il momento creato da te che stringessi la cintola fino alle ossa